Un quadro incoraggiante viene fuori dall'osservatorio Automotive Abruzzo 2023 presentato presso la sede del Polo a Santa Maria in Baro. Le aziende hanno retto, è cresciuta la digitalizzazione e si guarda al futuro con ottimismo, seppur moderato. Il presidente Giuseppe Ranalli ha parlato di tre sfide importanti. La prima rafforzare il parterre di infrastrutture pubblico privato costruito in questi anni. Grazie a questo, visto le tecnologie che abbiamo sviluppato, insieme alla regione portare avanti un programma di attrezione e di investimenti per mettere a terra la produzione di queste tecnologie innovative, cogliendo la sfida del cambio di paradigma quindi dell'elettrificazione, quindi mi riferisco alle power unit elettriche, alle batterie, a tutta la nuova componentistica e quindi cogliere questa opportunità senza piangerci addosso, visto che noi comunque motori endotermici non li produciamo sul territorio e la terza grande sfida è riuscire a creare il grande hub per l'attuazione dell'economia circolare, che tra l'altro è rafforzata dall'elettrificazione perché con l'elettrificazione si semplifica il veicolo, visto che abbiamo queste due grandi fiori all'occhielo, cioè la produzione di veicoli commerciali leggeri attraverso FCA, il Plant X Sevel e per quanto riguarda le due ruote con la Honda. Il direttore del Polo Automotive, Raffaele Trivilino, ha anche evidenziato come la transizione elettrica porterà dei cambiamenti importanti sia nella produzione che nella vendita dei veicoli. Ci saranno una serie di cambiamenti, come lo dobbiamo affrontare? Dobbiamo affrontare questo in modo positivo, e anzi propositivo, è una sfida che non possiamo subire, noi non dobbiamo piangere, io sento parlare di crisi, se noi cominciamo ad avvitarci intorno alla crisi siamo finiti, dobbiamo reagire e capire, seguire tutto il percorso in modo tale che noi siamo attori di questo percorso e non siamo invece dei follower che seguiamo gli altri. Sollevato il problema delle infrastrutture, il Presidente Marsiglio ha dato rassicurazioni su quanto la Regione sta facendo in termini di azioni concrete, sta per essere ultimata la piastra logistica a Saletti, ha detto, e per la Fondo Valle Sangro è pronto un progetto rinnovato con una soluzione per imprese d'ANAS. A fronte di troppi uccellacci che parlano sempre di una situazione di crisi incipiente o di disastro annunciato, in realtà i risultati parlano chiaro e dimostrano che l'area industriale della Val di Sangro e in generale il comparto dell'automotive abruzzese tira, sta reagendo bene alla crisi, stanno tornando a livelli produttivi, alcuni in realtà facendo record di produzione, l'onda non ha mai fatto tanti motocicli come dopo il Covid. C'è bisogno di competitività, con le competenze che giocano un ruolo fondamentale, Paolo Raschiatore, Presidente ITS. L'ITS risponde creando sempre nuovi corsi, noi proprio ieri sono usciti i dati del monitoraggio del Ministero perché gli ITS sono particolarmente monitorati, in cui il nostro ITS ne esce nel modo migliore, tre corsi su tre sono risultati premiati.